Bella ragazzi, io sono Altair e benvenuti nel mio canale Oggi vi porto un estratto della mia streaming su Twitch In cui sono riuscito a fare il secondo tentativo in streaming Dime Machine, l'easter egg Allora, il secondo tentativo è perché il primo è fallito miseramente per chi c'era in streaming E l'ha visto pure che ho anche sbagliato alcuni round e tutto quanto Questo ve l'avevo detto che l'avrei portato E allora, adesso vi volevo spiegare più o meno quello che io ho fatto Attualmente nei primi round più o meno sono stato sempre nella first room Quindi sono stato sempre fermo in questa posizione qua E ho fatto più o meno i zombie un po' a pugni Un po' con qualche colpa dell'arma personalizzata Che potete fare tranquillamente e poi farla livellare su zombie Come anche su COD, sul multiplayer Però io ormai le sto facendo qua perché voglio anche la Dark Matter che c'è Che è molto bella di zombie E niente ragazzi, cosa è successo? Allora, praticamente nei primi round sono stato tutto il tempo a fare a pugnico di zombie A spararli poi in alcuni round In altri, come in questo, mi è capitato di avere la nuca e quindi ho cercato di farli tutti prima E poi usarla perché sono 400 punti in più Quindi sempre vi consiglio di fare quello, di uccidere prima tutti i zombie e poi tirarla E il consiglio che vi posso dare è che se volete avere un po' più di soldi E poi riuscire ad aprire la map e magari fare qualche perk e qualche potenziamento Tirate un po' verso il nonno round, ok? O se no, altrimenti lo potete anche fare tranquillamente al quinto round Non è un problema Però già al 5 avete solo 10.000 Comunque vi rimarranno più o meno 2.400 in tasca o qualcosa del genere Quindi io vi consiglio personalmente di tirare fino al 9 e poi aprire come ho fatto io E quindi riuscire magari anche la cosa fondamentale è andate sempre sotto i perk E accovacciatevi così o meno vi prendete quei 100 che sono sempre comodi Sono sempre quei 100 che fanno un po' non tanto differenza ma comunque sempre si accumulano E io ripeto, nel round 9 ho iniziato ad aprire tutto quanto E ho cercato anche di sfoltire un po' la folla, di uccidere un po' di zombie così a me non ne avevo tanti Poi un'altra cosa che vi consiglio è quando andate nella parte del bunker E di aprire quella destra Perché avrete poi sotto qua davanti il Daikiri Quindi tranquillamente poi andate sotto il Daikiri e beccate anche altri 100 se volete accumularli Io ho poi aperto la parte sinistra anche perché era per un fattore di comodità Dato che poi negli step più avanti per gli easter egg comunque mi serve anche quella porta aperta Quello che vi posso consigliare è però aprite principalmente se avete pochi soldi di aprire quella a destra Almeno avete il Daikiri lì subito disponibile andate lì sotto vi prendete altri 100 e fanno anche comodo altri 100 quindi Un'altra cosa è cercate sempre di lasciare uno o tre zombie più o meno anche se poi li despawneranno però cercate di fare molto veloce Non despawnano subito ovviamente però in questo nuovo zombie da quanto visto se state troppo a girare a farvi i fatti vostri in un round possono scomparire Quindi quello che vi consiglio è attivate subito la corrente fate i vari passaggi Un'altra cosa che vi consiglio è che al primo teleport che fate andate a recuperare un pezzo della wonder weapon Soprattutto non un pezzo della wonder weapon ma il potenziamento che è il potenziamento del fuoco Quindi quando voi andate poi a recuperare anche la parte per costruire il pack a punch Che ovviamente è la prima cosa che dovete fare perché altrimenti non riuscite a fare i vari passaggi Quindi dovete andare a recuperare il pezzo del pack a punch ma se vi capita come è capitato a me di trovarlo in questa zona qua Sparate questa scatolina qua che c'è qui eccola vedete e vi prendete questo pezzo perché questo pezzo sarà fondamentale per fare il potenziamento del fuoco alla wonder weapon Che poi lo vedrete più avanti perché ovviamente lo fa tutto quanto filato Quindi l'ho fatto tutto all'estremo Ok adesso che è successo ho costruito il pack a punch Quindi adesso ovviamente quando ho completato il pack a punch mi ha mandato nella realtà Ovviamente io quello che vi consiglio è anche quando avete fatto il pack a punch di fare questi pallini qua Che sono poco che altro l'attivazione della confidence Quindi vi consiglio di farlo perché vi darà un'arma gratis ovviamente potenziata più o meno Nel senso che è con tutti i vari perché che può avere nel senso il calcio il mirino tutto quanto Bene strutturata ve la può dare o rara comunque o epica E vi potrebbe anche se di fortuna se vi va di fortuna beccarvi la reagan Il fattore è che io comunque nonostante abbia fatto varie round e fatto varie partite non me la son beccata la reagan C'è chi dice che comunque bisognerebbe anche ristartare se non si trova la reagan Però nel senso se a voi non interessa di avere la reagan e volete solo fare l'easter egg fatelo Tanto cioè continuate e non vi preoccupate Ovviamente io qua poi mi sono messo a salire sopra sui zombie che ci ballava Ci ballava anche il personaggio da quanto vedevo E quello che vi posso consigliare è questo Se volete continuare nel frattempo a fare l'easter egg e non volete riavviare continuate Non è un problema Ovviamente questo vi darà il juggernaut gratis Quindi non prendete prima il juggernaut perché già ve lo darà gratis questo Casomai i soldi tenetevi per un'altra abilità Casomai una speed goal o magari un'energia più che è quello per correre più veloci O magari dai kiri la bibita elementare ve la consiglio poi dopo Un'altra cosa che consiglio è che qua io mi stavo incasinando E di mettervi sotto al pacca punch Non so perché altrimenti rischiate di morire Tanto la cassa non scomparirà Quindi rimarrà lì fino quando non l'aprite E soprattutto vi consiglio davvero di stare sotto al pacca punch Se non altrimenti rischiate con i cani Soprattutto perché poi dopo la coffin dance si attiva il round successivo Quindi vi consiglio di stare proprio lì Un'altra cosa io poi quando ho finito i cani A me è spawnato il mini boss Ovviamente io vi consiglio di tenerlo ancora normale Non di sdoppiarlo perché altrimenti è un bel problema Voi dovrete portarlo poi in questa zona qua E portarlo verso l'albero che è questo qui con questo fungo qua E dovrete farlo colpire Ovviamente il raggio del loro colpo è più o meno un pelino grosso Quindi riuscirete anche a farlo colpire Una volta che fate colpire diranno una frase Ecco quando dirà così Allora vorrà dire che lo step è stato completato Ovviamente uccidete i boss che sono rimasti I primi boss che uccidete vi rilasceranno una chiave Ovviamente una carta Questo invece era solo un messaggio così Che si ottiene ogni tanto Ok quando avrete preso la carta Dovete dirigervi dalla parte del Daikiri Ok e dovete interagire con questo macchinario qua Che vi rinascerà un altro pezzo Che è il telecomando RIP Attualmente questo telecomando qua Poi vi servirà per continuare a fare la Wonder Weapon Quindi dovrete andare poi su Andare alla First Room Dirigervi alla porta o a destra Per non sprecare soldi O a sinistra Quando starete vicino dirà questo Ok poi andrete su questa fessura qua Interagite E lui inizierà a risucchiare i zombie Io siccome ero a fine round Non sono riuscito Ha bisogno più o meno di 20 anime Quindi Poi andate nel round successivo E fate risucchiare un po' di zombie Poi un'altra cosa che io vi consiglio È di lasciarvi la parte aperta sopra Questa qua delle scale Perché così almeno non rischiate che vi facciano gruppo E vi prendano da due lati E quindi vi blocchino E magari rischiate anche di morire Ovviamente poi quando avete finito Interagite su quella fessura lì Vi prendete la Wonder Weapon Vi dirigete sopra Perché dovrete poi sparare Alla scatola Questa qua Ok Poi dovrete andare A recuperarvi Questa bombola che c'è in questa zona qua Che è uno dei potenziamenti Potenziamenti per la Wonder Weapon Che sarebbe il 9 a 5 Vi ricordo soprattutto Che non potenziate prima La Wonder Weapon Né niente Perché Se no altrimenti Quella scatola che avete visto prima sopra Che lì dovevate sparare Non riuscirete a buttarla giù Io infatti avevo sbagliato In un round E non l'avevo capita questa cosa Quindi l'ho imparata le mie spese Ok Questa è la scatola che è caduta giù Vi recuperate questa provetta qui La mettete lì sotto sull'albero Dovete aspettare più o meno Un minuto Ok Quindi vi sfoltite un po' di zombie Li uccidete Vi andate a recuperare Dopo un minuto La fiaschetta Questa qui Che la vedrete Che è carica Quindi che è piena E ovviamente poi Siccome avete già la bombola Io vi consiglio di Andarla a posizionare Dove c'è il Daikiri Ok E vi dirigete verso questa zona qua La posizionate in questo Posto qua Ok Questa bombola poi La dovrete alimentare Con i cani Quindi poi tra poco vi faccio vedere Come si fa Invece per la fiaschetta Che è quella del potenziamento Del ghiaccio La posizionate qui Su questa scatola qua E il primo potenziamento È stato fatto Dalla Wonder Weapon Poi andate nel teleport Recuperate questi pezzi qua Che sarebbero Delle terescopio E questi pezzi qua Li troverete In queste zone qua Dove vi sto facendo vedere Sono sempre fissi Ovviamente dipende Da come avete attivato Il pack a punch In questo caso Siccome io l'avevo attivato Da questa zona qua Io allora mi sono trovato Il primo pezzo Nella first room Poi il secondo In questa zona qua E il terzo pezzo Si trova Dalla parte del pack a punch Io ovviamente Poi ne ho approfittato Dato che In questo step qua Spawnano un botto di cani E a me i cani servivano Per alimentare La bombola del 9 a 5 Del potenziamento Del Wonder Weapon Quindi mi sono messo All'angolo Con l'anello di fuoco A livello 3 Che ce l'avevo potenziato Al massimo E mi sono messo qui E sono riuscito A riempirla tranquillamente La bomboletta Io sinceramente Non so quanti cani Ci vadano Per alimentarla Quindi Poi questo era L'ultimo pezzo Ovviamente Quando prendete Poi l'ultimo pezzo Lui vi teletrasporta Nella dimensione normale Dovete uccidere Poi i cani Che rimangono Andare in questo Bango qua Costruire Il L'eteroscopio Ok E quando avete costruito L'eteroscopio Dovete dirigervi Verso questa zona qua Io poi In questa zona qua Volevo salire da questa parte Ma non si può salire Quindi dovete salire Normalmente Da queste scale Perché Se no altrimenti non riuscite Fate l'interazione Con questa fenditura qua Vi dirigerete poi Verso la parte di questa Di questa zona qui Che c'è A destra Entrate qui Vi prendete questo libro Qui Ovviamente dovete darlo Alle varie Anomalie Ok E dovete Interagirvi Una è questa L'altra Si ritroverà poi In questa zona qui Dovete Sempre attivarle Così non vi daranno Neanche fastidio Di zombie Perché vi ignorano Se voi poi volete Farveli in vari step E sentirvi tutto quello Che dicono Fatelo Però se volete farlo Molto più veloce Fate tutto quanto Entro i due minuti Perché se no altrimenti Vi butterà fuori Quindi vi consiglio Di farle Tutte quante veloci E andare dal primo La seconda La terza E la quarta La terza E questa La quarta Si trova invece Nel banco da lavoro Dell'etereoscopio E questa sarà L'ultima Con cui dovete Interagire Ovviamente Se voi interagite Come ho detto prima I zombie Non vi daranno fastidio Quindi potete sentire Quello che dicono Poi questa parte Io l'ho tagliata Invece così A me non vi spoglieravo Troppo Quindi dovete Dirigervi Una volta che avete Parlato tutti quanti Verso quel computer Quel computer Che è stato attivato E inserita Password Dirà questo Una volta che avrà Detto così Lo step Sarà stato fatto giusto E spawneranno Due fenditure Dovete recarvi A questa E con questa In poche parole Recuperavate Il primo pezzo Per fare il potenziamento Del fuoco Della wonder weapon Io poi qua Siccome avevo la bombola Ho approfittato L'ho posizionata In questa scatola qui Ed era il potenziamento Del nova 5 Di mentre Siccome io già Avevo recuperato Precedentemente Il pezzo Per fare il potenziamento Del fuoco All'inizio Allora Mi sono recato Poi Dalla zona Dove c'è Il daikiri Ok E vi dovete Recare lì sotto E dovete Posizionare Quel pezzo Del potenziamento Del fuoco In questa scatola qui Una volta Posizionato Quel pezzo Vi rimanderà Nel mondo normale Come conferma Che avete Completato Il processo Bene Quindi dovrete Poi andarvi A recare Verso questa zona Qui Recuperare Il potenziamento Del fuoco Perché servirà Poi per uno step Successivo Degli easter egg Per l'altro Potenziamento Invece dovete Direggervi Qui Che sarebbe Il potenziamento Folgorante Il potenziamento Folgorante Per me Secondo me È il migliore E Io l'ho Continuato a usare Poi Lo vedrete Ma tutto il tempo Perché è stato Stracomodo Per vari step Ovviamente Per fare Il potenziamento Folgorante Dovete Andare a recuperare In tre punti Diversi Tre cristalli Allora Io Sono riuscito Nella Prima fase Nella Prima volta Che sono Terletrasportato A recuperare Due pezzi Il primo Si trovava In questa zona Qua Ovviamente Dovete avere Sempre l'arma Scarica Un po' Per riuscire A risucchiare Il cristallo Io quello Che vi posso Consigliare Per fare Molto più In fretta E dirigervi In queste zone Qua In questi Tunnel Che Riescono a portarvi Tranquillamente Verso le zone Più vicine Del Del Pack-a-punch Perché Vicino al Pack-a-punch Sotto Ok C'è Una scatola Che sarebbe Questa qui E dovete E dovete Andarli A sparare Una volta Che sparate Lei si alimenterà Di questo cristallo Farà quelle Strane particelle Intorno Vuol dire Che Ha assorbito Il colpo Quindi Poi vi recate Dove c'è il secondo Cristallo Vicino al Juggernaut Quindi lo recuperate Ovviamente usate Sempre I tunnel Quindi andate Sempre su questo Tunnel qua Per questi due Cristalli Vi recate Di nuovo Alla scatola Che c'è Sotto Il pack-a-punch Quindi Vi dirigete Lì sotto Poi Gli sparerete Voi con La wonder weapon Che avete Risucchiato Il cristallo E di nuovo Lui farà Quell'interazione Strana Il terzo Pezzo Voi lo andate A recuperare Invece Qui E Ovviamente Io vi dico Soltanto che Nella prima fase Riuscite solo A recuperarne due Poi ovviamente Dovrete fare un altro round Per riuscire a recuperare Il terzo cristallo Perché Come ben sapete Nell'altra dimensione Si rimane Solo due minuti Quindi Una volta che avete Recuperato l'ultimo cristallo Vi dirigete di nuovo Qui Sparate E L'ultimo potenziamento Dei quattro E' stato fatto Quindi il folgorante Ce l'avete Adesso poi vi recate Invece verso questa stanza Qui Per procedere con Il prossimo step Degli streg Che consiste In Sparare queste testine Questa era La testina rossa Quindi era quella Del fuoco Questa è gialla Quella del folgorante Poi recuperate Poi recuperate Quello del ghiaccio Che è Questa testina Azzurra Poi recuperate Quello del 9-6 E sparate Su quella verde Una volta che avete Completato questo step Vi dirà Dopo che vi dirà Questa cosa Vi dovete Arriccare Verso questa Fenditura Perché Dovrete Poi Interagire Con Un'altra Anomalia Che c'è Dall'altra parte Che in poche parole Sono Una coppia Che parlano Del loro futuro Di come sarebbe Adesso tanto Lo vedrete L'anomalia Si trova Verso questa zona qua Ecco qua Ok come conferma Che è stato Correttamente Fatto Lo step Vi Rimanderà Nel mondo Normale E Dove Hanno Parlato Quelle due Entità Rilascere Una chiave Voi la dovete Recuperare E dirigervi Verso la First room Dove c'è Il carro armato Perché Dovete Interagirvi Con La chiave Per ben Tre volte Alla terza volta Che Interagite Con il carro armato Uscirà Uno zombie Dalla parte alta Che aprirà Uno sportello Voi dovete Uccidere Lo zombie Così almeno Poi avete Lo sportello Aperto Una volta Che l'avete Ucciso Dovete Di nuovo Lanciare Una granata Dentro Il carro armato Quindi Anche se non cade Dentro Ma comunque Becca Lo sportellino E va bene Non è un problema E Il carro armato Sparerà Un colpo Questo colpo In poche parole Farà cadere Una palla Dorata Ok Che Dovete Andarla A recuperare Una volta Recuperata Questa palla Dorata Cosa succederà Spawneranno Tanti cani La cosa Che Dà molto Fastidio Proprio Sono loro Che Non Dovete Vincolarvi Tanto Muovervi Tanto Io vi consiglio Di Muovervi Tanto vicino Contro il muro Così almeno Da evitare Che loro Vi prendano Ogni tanto Provate a muovervi Anche come ho fatto io Una volta che avete Raggiunto questa zona Posizionate lì E siete a posto Quindi poi Uccidetevi I vari cani E Dirà Una frase Il soggetto Richiesto Non è altro Che Un Megaton Un megaton Però Gemello Quindi vi chiederà I megaton Gemelli Cosa sono i megaton Gemelli Sono I I Due che si Sdoppiano Quando uccidete Il megaton Normale Cioè il mini boss Mini boss Quando voi lo uccidete Si sdoppierà E cosa succede Dovete portarlo Lì sotto Sdoppiato Una volta Che li portate Lì sotto Lui ne risucchierà Uno per volta Quindi fate molta attenzione Perché rischiate Anche di morire Davvero fastidiosa Sto parte qua Da fare Soprattutto Se si è soli E Se avete zombie Uccideteli Perché tanto Sono anche loro Di intrancio Soprattutto Perché vi Daranno tanto Fastidio E voi Dovete far Entrare Un megaton Gemello Di dentro Ed è impossibile Con loro Che continuano Ad attaccarvi Infatti io li ho Poi uccisi E niente E niente Quando avete fatto Succhiare Il megaton Gemello Vi Dovrete Reccare Nella stanza Dove c'è il computer E interagire Con il computer E poi succederà Questo Qual era Il vero scopo Di project Endstation L'interesse Del fuhrer Per l'occulto E il misticismo E cosa nota Quel pazzo Voleva Qualsiasi cosa Potesse Dargli un appoggio Bellico Al più minimo Chissà A quali poteri Potrebbero dare Accesso Le risorse Di un'altra dimensione Requiem Non ha lo stesso Obiettivo Squivano Cosa mi è successo Cosa sono Sono un mostro Cosa mi avete fatto Devo andarmi qui Devo fuggire Devo Fuggire Di qui Attenzione Il soggetto Ha un caso Scopinito Beh Ecco Quando Orlov Poi Scapperà via Dalla Cella Voi dovrete Andarvene via Da questa zona Perché Spawneranno tanti cani E Spawnerà poi Un megaton Un miniboss Quindi Dovrete andarvene via E per Far ritornare Orlov Dovrete Arrecarvi Verso questa zona Qui E interagire Con questo Teletrasporto Questa fenditura E Lui vi rimanderà Nell'altro Nell'altra dimensione E nell'altra dimensione Dovete Andare A recuperarvi L'anomalia Piccola Cate So Che Mi potete Sentire La vostra Forza Il gruppo Omega Mi ha consegnato Gli ordini Devo riavviare Quella macchina Infernale Non posso Dormi Per il mio Dovere Non so Cosa Vedrà Quando Verrà Reattivata Non sono Autorizzato Di avere Queste Informazioni Considerando Però Le precauzioni Prese dagli altri Devo Considerare La possibilità Che non Mi rivedrò Più Spero Che non sia così Spero Che non Cavi nulla Il mondo Resti con me Ma temo Che aprirò Qualcosa Che non potrà Essere Richiuso Io Tornerò Da voi Ecco Come completamento Del Dello step Vi rimanderà Di nuovo Nel mondo Normale E A questo punto Quando Voi Ve la sentirete Dovrete Reccarvi Verso quel punto Lì E Recuperarvi La foto Che lui Lascia Su quel tavolo Io ovviamente Poi Sono noto A potenziarmi L'arma Io vi consiglio Di andare lì Con ovviamente L'arma Primaria Che usate Potenziata Almeno A livello 3 Quindi vi fate Un po' di soldi Tutto quanto Quello che vi serve Quindi vi fate Tutto quello che volete E vi preparate Un po' prima Con varie cose Quindi io Sono stato qua A far Un po' di soldi A farmare Un po' di Elementi Per poi Non trovarmi Impreparato Nella fase Del Del boss Della boss fight Perché è Bella impegnativa Ve lo posso Assicurare Quindi Io vi consiglio Di farvi Un po' di Zombie Poi buttarvi giù A fare La boss fight Che poi Non è neanche Una boss fight Perché Sarà Un aiutare Orlov A distruggere Il tutto quanto Infatti Poi vedrete Comunque Per attivare La boss fight Dovrete andare Su questa foto Qui Interagire E lui Vi rimanderà Direttamente Nel Pack a punch Ovviamente Io vi consiglio Anche di Potenziarvi L'armatura Al massimo Se non avete Potenziata E di farvi Le placche Se non avete L'armatura Ben messa Quindi Poi Una volta Che siete Pronti Vi mettete Al centro E lui Parlerà Questi volti Mi sono familiari Un tempo Mi conoscevo Forse Anni fa Però Sono La mia Seria La mia Famiglia Sono Venuto In questa Terra Maledetta Per fare Un lavoro Omega Mi hanno chiesto Niente Costinetto Ad attivare Questa macchina Infernale Ho causato Cose Orribili Io Ho causato Cose Orribili Il gruppo Omega Ha grandi Piani Siete qui Per fermarvi Vi aiuterò Spegneremo Insieme Questa Macchina Infernale Chiudete Il passaggio Sarà Il primo Passo Rimedirò Altanno Che ho causato Ecco Una volta che lui avrà finito di parlare Inizierà la boss fight Che consiste non in combattere contro di lui Ma salvarli Sarvargli la vita dagli attacchi di zombie Ovviamente lui ha vita infinita Quindi non dovete stargli addosso ma pensare alla vostra vita Soprattutto perché spawneranno cani Mini boss Quindi io vi consiglio di Usare a manetta Soprattutto a stecca La wonder weapon Con il potenziamento folgorante Perché è straforte Quindi vi salverà molto E vi consiglio sempre di Cioè cambiare ogni tanto Variare da La mitraglietta O quello che usate come arma Vostra Per Non andare in giro pesanti Con la wonder weapon Dato che rallenta molto Il fattore di camminare in giro E quando vedete che è una situazione un po' più impegnativa Tiratela fuori Non piuttosto di Di fare i tirchioni Non Decidere di non usare le varie munizioni Usatele Perché tanto Non Non sarà un problema recuperarle Dato che se uccidete i Vari mini boss Vi rilasceranno Munizioni e placche Quindi Fate molta attenzione Continuate a girare Cercate di pensare a voi Orlo Fatelo sempre per ultimo Nel senso datene la mano all'ultimo E Quando siete più tranquilli Perché se no sarà un bel problema Se rischiate Se morite Perché Finisce lì E quindi Avete fatto tutto sprecando Del tempo per niente Ovviamente Lui Finirà di fare i vari step Voi dovrete recarvi A una delle porte Che Sono Colorate di viola Io vi consiglio Di Prima di scappare Di mettervi tutto a posto E mettervi su questa Per scappare Tranquillamente Senza problemi Ovviamente vi arriveranno Orde di zombie Ci saranno questi fasci di luce Che Faranno Tanto male Ma Fidatevi Fanno tanto Tanto male Soprattutto alla vita Non tanto alla corazza Ma quanto alla vita Quindi cercate di scappare Quindi cercate di scappare Seguendo questo percorso Non inventatevi percorsi alternativi Perché rischiate di perdere Quindi Infilatevi qui E passate in queste zone qua Non andate oltre Ovviamente L'elicottero Prima che scenda Sono una decina di Secondi Quindi cercate di anticipare Il fattore che Vi si ammassino Tanti zombie Perché Se no Attenete rischiate di morire Proprio alla fine Io Ho quasi rischiato Su questa parte qua E Diciamo che Se Non premiamo F Subito Adesso che mi stavano cerchiando Che infatti Questa è la parte Dove sono andato in stallo E mi è andata stra bene Quindi Io vi consiglio Di uccidere tutti i zombie Stra veloci E Appena c'è L'elicottero Schiacciate subito Quel maledetto tasto Perché Rimarrete incastrati Intanto E niente Poi qui c'è Il mio festeggiamento Del fattore che Sono riuscito A A Finire L'easter egg E niente ragazzi E Poi vi porterò magari I vari passaggi Dei vari potenziamenti Delle Wonder weapon E Le varie cose Quindi E niente ragazzi Grazie mille per aver guardato Questo video Vi ringrazio tanto Se vi è piaciuto il video Lasciate un pollicione su E iscrivetevi al mio canale Porterò Magari altri contenuti Del genere E Sto pensando Di Fare anche I vari Video Riguardanti La wonder weapon E Altro Quindi Grazie ancora E ci becchiamo su twitch E Prossimamente su un altro video Qui su youtube Bella ragazzi Grazie a tutti 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 Grazie a tutti